buongiorno a tutti allora proseguiamo con la rubricona del gigione mi auguro che stiate tutti bene soprattutto come dicevo come diceva sgarbi state bene e mi fermo qui perché lui diceva anche preoccupatevi ma l'ultime le ultime sue uscite non sono stato francamente il massimo perché tutti dicono di stare a casa consigliano di stare a casa lui va avanti con lo scarsi virus è vero che dicono che ha una mortalità dell'1-2% però devi essere sano di buona costituzione non avere problemi qua lassù giù come c'hai una minima cosa sono dolori comunque il coronavirus ne abbiamo parlato ieri sera nella diretta mi raccomando a lunedì c'è sempre la diretta col gigione chi vuol passare andiamo sulle notiziuole the call news quindi le notizie fredde questa è una la prima la prima una notizia diciamo geografica geografica paesaggistica come preferite perché tra i tanti meravigliosi posti che la regione del piemonte e i dintorni di torino offrono agli abitanti ai visitatori c'è sicuramente il santuario di europa o europa dove sono stato quando ero veramente little little situato sul sacro monte di europa o europa o europa quello che è patrimonio dell'unesco dal 2003 il santuario si trova sulle prealpi biellesi a 1159 metri di altezza quindi si respira anche la rietta buona adesso purtroppo dobbiamo stare a casa quindi ci andrete magari quando non ci saranno più problemi secondo la tradizione che però non trova riscontro storico la costruzione dell'edificio risale al quarto secolo e fu voluta da sante eusebio il quale diffuse la religione cristiana nelle valli del territorio circostante ancora quasi del tutto di religione pagana il santuario di europa diciamo europa dai europa è dedicato alla madonna nera la cui statua si trova all'interno ed è venerata sin dal 1300 durante il corso dei secoli alla vergine sono stati attribuiti diversi miracoli fu così che il santuario è diventato meta di pellegrinaggio cristiano secondo gli studiosi invece le origini della prima costruzione del santuario risalgono al 1200 nel corso del tempo la struttura del santuario ha subito notevoli cambiamenti fino a raggiungere le grandiosi dimensioni che oggi possiamo ammirare e che hanno consentito l'accoglienza dei fedeli in pellegrinaggio il santuario di europa è oggi composto dal chiostro con la bellissima basilica antica poi abbiamo la basilica nuova il museo dei tesori l'appartamento reale il sacro monte l'osservatorio meteoro 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 sismico visitabile supernotazione la biblioteca ed infine gli edifici laterali dove sono state costruite le camere oltre 300 adebite all'alloggio dei pellegrini quindi se uno vuole si fa anche la settimanella lì da vedere ci sono tante opere d'arte e ovviamente la statua gotica della madonna nera risalinta appunto al 1300 disseminate nell'area del santuario si trovano in oltre 12 cappelle costruite tra il 600 e il 700 che sono dedicate alla vita della madonna la cappella dell'immacolata concezione di maria la cappella della natività di maria la cappella della presentazione di maria al tempio al tempio e la cappella la cappella della dimora di maria al tempio perché prima una poi l'altra la cappella dello sposalizio di maria la cappella dell'annunciazione annunciazione annunciazione la cappella della visitazione la cappella della natività di gesù la cappella della purificazione di maria la cappella delle nozze di cana la cappella dell'assunzione di maria e infine la cappella dell'incoronazione di maria in cielo o del paradiso quindi ce n'è per tutte uno si fa tutta la storia della della vita di maria dall'inizio alla fine all'interno di queste cappelle disseminate sul sacro monte di europa si trovano numerose statue in terracotta policroma a grandezza naturale nel periodo che va da maggio a settembre inoltre è possibile visitare il giardino botanico che è oasi del vvf e che protegge promuove la conoscenza della flora alpina il santuario è poi il luogo ideale per le persone che amano le passeggiate in alta montagna da lì si possono infatti raggiungere numerosi rifugi alpini e grazie ad una funivia si può raggiungere il lago e la stazione scistica del mucrone per i suoi tesori storici artistici per la bellezza del posto e la pace che vi si trova il santuario di europa è sicuramente uno dei tesori che vale la pena visitare in questa splendida regione che è il piemonte si tratta di un posto davvero tranquillo immerso nel verde dove poter trascorrere un po di tempo lontani dal caos e dallo stress della vita di tutti i giorni insomma un riparo per il corpo e per lo spirito ecco magari ci pensate appena il burdello che abbiamo e che non c'è poco da scherzare termina adesso state a casa mi raccomando state a casa detto questo seconda notiziola col news di un paio di mesi fa sempre gennaio gennaio 2020 ed è una bella notizia ogni tanto qualche bella notizia quando ho sentito una coppia con una carrozzina per bebè urlare in strada cercando disperatamente aiuto anzi scusate quando ha sentito una coppia con una carrozzina per bebè urlare in strada cercando disperatamente aiuto io no e non c'ero un carabiniere libero dal servizio impegnato a sbrigare delle pratiche personali si è avvicinato immediatamente per prestare col soccorso e ho visto che c'era una neonata di nemmeno un mese ormai cianotica e in apnea così il militare in forza alla compagnia trionfale ha praticato subito la manovra di heimlich con la collaborazione del papà della bimba e in questo modo l'hanno salvata ancora prima che arrivasse l'ambulanza del servizio emergenza del 118 l'episodio è accaduto in via simon design bon simon design bon non simon le bon simon design bon nel centrale quartiere prati vicino alla cittadella giudiziaria di piazzale clodio quando mi sono reso conto che ho ripreso a respirare ho pianto di gioia e non me ne vergogno salvare la vita di una bambina di soli 20 giorni mi ha dato una sensazione unica forse anche perché sono papà di un bimbo di un anno e mezzo ha raccontato angelo perillo il vice brigadiere originario di venosa in provincia di potenza quindi ogni tanto anche i carabinieri fanno delle cose molto molto belle veniamo alla terza notiziuola ormai abbiamo un altro tipo di emergenza ben più grave però lo smog è sempre un'emergenza fastidiosa che appena arriva l'inverno anzi l'autunno inoltrato e diventa un problema vediamo cosa dicono è un discorso generico emergenza mog smog smog emergenza con il lavaggio delle strade pm 10 ridotto del 60 per cento il divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti diesel per primi non è l'unica soluzione per ridurre l'inquinamento del pm 10 di più il blocco dei veicoli diesel più moderni gli euro 5 e 6 è praticamente inutile inutile ai fini della riduzione del particolato nelle aree urbane dopo il blocco totale dei veicoli diesel deciso dalla sindaca di roma virginia raggi interviene anche l'unione petrolifera l'associazione dei produttori di petrolio porta in luce un aspetto trascurato quando si parta di rotta all'inquinamento urbano la pulizia delle strade a stoccar la pm 10 risotto del 60 per cento con il lavaggio delle strade in una notte inviata alla stampa l'unione petrolifera ha messo in evidenza un male endemico della città di roma la mancata pulizia delle strade nell'ambito delle politiche finalizzata la riduzione del particolato si legge nel testo è fondamentale anche il ruolo svolto dalle condizioni e dalla qualità di manutenzione dei manti stradali l'unione petrolifera cita come esempio la germania in particolare la città di stoccarla un esempio dell'efficacia di interventi specifici sulle strade sia nella città di stoccarla che a fronte di un triplicarsi del numero di giorni di lavaggio delle strade ha registrato una riduzione del 60 per cento dei superamenti della concentrazione giornaliere del pm 10 il 60 per cento di riduzione del particolato è davvero molto il fatto che sia stato ottenuto con un'attività con impatto infinitamente inferiore a quelle di un blocco della circolazione della maggior parte dei veicoli privati è ancora più rilevante unione petrolifera bloccare diesel euro 5 e 6 non serve a diminuire il pm 10 interventi anche modesti sulla pulizia e manutenzione delle strade cittadine continua la nota dei petrolieri darebbero quindi risultati di gran lunga superiore in termini di abbattimento dell'emissione di pm 10 come dimostrano le esperienze europee rispetto agli effetti praticamente nulli derivanti dal blocco delle auto diesel euro 5 e 6 inoltre hanno aggiunto nelle motorizzazioni euro 5 e 6 le emissioni di particolati derivano solo in parte dall'emissione allo scarico sia primarie che secondarie mentre in larga percentuale sono dovute al deterioramento per attrito di pneumatici freni e del manto stradale le cosiddette emissioni non esauste che tra l'altro tendono a crescere rapidamente con l'aumento del peso del veicolo giustamente ognuno tira l'acqua al suo morino però alla fine della fiera il problema dello smog ce l'abbiamo lo stesso detto questo io vi saluto vi ringrazio ci vediamo ai prossimi video ciao